Allora, in giorni scorsi hai detto che se t'accorgivi che c'era qualcuno magari poco motivato l'avresti lasciato fuori. Dopo il primo tempo ce l'ha cambiato forse tutta la squadra. Forse tutta la squadra, sì. Purtroppo non potevo farlo e quindi siamo tornati in campo cercando di almeno giocare con anima, con cuore, cosa che prima non avevamo fatto. Voglio chiedere scusa ai tifosi, alla società, perché questa è stata una prestazione veramente brutta per 70 minuti. Troppo poco poi dopo attaccarsi ai due gol e al finale di partita. Bisogna analizzare, bisogna capire che il campionato non è finito e che dietro corrono tutte molto, molto forti. Cosa è successo in questa squadra? È come se avesse, diciamo così, mollato per i play-off e fosse quasi certa che tanto non viene risucchiata. Perché adesso siete a un bivio, tot punti davanti, all'ottavo posto tot punti per i play-off. Situazione ibrida. Sì, però di matematico non c'è niente, quindi bisogna stare molto, molto svegli, molto svegli perché la partita di oggi mi preoccupa. Cosa c'è? È avvertito qualcosa in settimana di questo magari calo di tensione? No, la squadra ha lavorato come fa sempre, però poi dopo è il campo che dà il giudizio, che è inappellabile. E quindi oggi il giudizio non può essere che di una squadra che non era pronta mentalmente per affrontare questo tipo di partita contro questo tipo di avversari. Forse l'unica notte a Glietta è stato Mulattieri, è entrato bene, ha segnato. Sì, una nota positiva è questo ragazzo del 2000 e in questo senso sono contento per lui. Però tutti, tutti devono capire che il campionato non è finito e che ci sono ancora cinque partite e cinque partite sono tante, sono tantissime. E quindi bisogna svegliarsi. Posto, grazie.